un carissimo saluto a voi tutti dalla ditta romano baroncelli di quadrata in provincia di pistoia siamo a mostrarvi alcuni capi per darvi delle idee di quello che potete trovare venendoci a quadrata a trovare non abbiamo chiaramente solo le pellicce abbiamo tanti articoli si spazia dagli shirling montoncini reversibili capi in pelle qui c'è un grande grande assortimento e poi chiaramente anche la pellicceria questo è un reversibile di castorino che si può indossare da tutti e due i lati questo è un impermeabile molto caldo vedete dalla parte del tessuto oppure dalla parte della pelliccia sono capi comodi utili e molto caldi che si indossano bene durano tanti anni se ne avete cura della nostra roba ovviamente si va avanti tanto tempo poi abbiamo fatto dei bellissimi palto dove c'è la mongolia dove c'è la volpe e sono capi caldissimi molto particolari per chi vuole anche andare sul tessuto poi abbiamo l'antilope con l'interno tutto in cascimer vero e guarnito in visione capo leggerissimo estremamente leggero e molto molto caldo si sta ritornando anche come modellistica un po agli anni settanta poi non può mancare nel nostro grande assortimento il poncho l'abbiamo da vari prezzi e in tantissimi colori ovviamente il marrone costa un po meno certi altri colori costano un po di più però c'è veramente un grande assortimento è un modo giovane per indossare il capo in pelliccia ci sono anche più corti qui siamo ad un montone che ha un lato con la pelle e un lato è immaculato vedete si indossa da tutti e due lati sono fanno parte della nuova collezione capi caldissimi attualissimi e non c'è chiaramente solo immaculato ma ci sono tanti articoli questo è molto e lo shirling è giù diciamo un termine che magari più comprensibile a tutto a tutti si può indossare dal lato che state vedendo oppure dalla dall'altra parte dalla parte del chiaro che sono molto giovanili e molto specialmente nel nord e tanto tempo che già li stanno vendendo qui da noi ci sentra sempre molto più tardi anche con la moda e però poi insomma bene viene capita anche in toscana questa è una giacca mantella stupenda in un visone bianco e perla abbiamo fatto e nero poi li facciamo anche su ordinazione il cappottino in zaffiro col cappuccio oppure senza cappuccio io lo consiglio moltissimo sono pelli naturali non sono tinte e quindi e poi il demi beffe come sta arrivando ora la ragazza col cappuccio e ce l'abbiamo questi giacchini anche senza cappuccio ci sono anche più corti e potrebbe essere anche un'idea per qualcuno di voi che ha una pelliccia magari un modello antico anche tagliarlo e fare un giacchettino corto se è possibile farci cappuccio oppure un collo diverso ci sono tante soluzioni anche se volete sistemare un capo che avete già voi facciamo la rimessa modello e le aggiustature oppure se lo volete dare indietro e comprarvi un capo nuovo vi viene dato un'ottima valutazione chiaramente ora dopo vi dico un'altra cosa ora parlo dell'offerta che ho fatto questo è uno shirling e bicolore a chicco di riso che viene dato a 390 euro ci abbiamo anche altri colori di queste poi c'è anche il gilet che vi costa meno oppure il gilet divisione che per una settimana 10 giorni massimo lo diamo a 680 euro è un'offerta importante che io ho fatto per premiare alcune signore o signorine che naturalmente vogliono spendere una cifra non molto alta io ho dato questa opportunità dicevo poi abbiamo tanti articoli che non costano molto come può essere un rex come bicolore come questo dorsato oppure anche altri capi che ci sono quello che volevo puntualizzare che noi non compriamo vecchie pellicce vecchi shirling perché non abbiamo il commercio dell'usato quindi è inutile telefonare tutti i giorni oppure io lo dico in televisione facciamo la permuta però non riacquistiamo roba vecchia questo per esempio è un palto un cappotto con cintura a divisione nero bellissimo sempre attuale dura anni e anni sono modelli diritti naturalmente come usano ora e poi potrei farvene vedere tanti altri ma non ho più tempo vi voglio il negozio io vi ringrazio di avermi seguito in questi pochi minuti e vi aspetto in tantissimi